gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia conte da tre giorni telefona a renzi renzi non risponde al telefono zingaretti e di maio non rocco crimi detto vito che veramente personaggio inesistente zingaretti di maio questo fine settimana cercheranno di trovare una soluzione con renzi soluzione che renzi sembrerebbe non che non non volere nessun tipo di soluzione perché spinge per un suo obiettivo che rimane a questo punto segreto dopo tante parole fiumi di parole fiumi di parole ecco dopo fiumi di parole non si capisce più realmente quale sia l'obiettivo di renzi certo non è l'obiettivo non è il bene del paese ma è un obiettivo personale molti politici sono realmente schifati dicendo ma com'è possibile il paese in queste condizioni e questi giocano con le poltrone e i divanetti incredibile quindi si vorrebbe riuscire a passare dal conte due al conte tre praticamente fare una sorta di caduta e rinascita di conte no come come qualcuno tanti anni fa che muore e risorge ecco insomma il messia conte il bisconte messia è così naturalmente deve passare dal quirinale questa 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 crisi nel senso che conte deve essere convinto da zingaretti e di maio dopo che hanno convinto renzi per il conte tre conte deve essere convinto da di maio zingaretti ad andare a dare le dimissioni fidandosi che renzi poi dia la fiducia nuovamente a un conte tre ma conte non si fida di renzi beh chi si potrebbe chi si fiderebbe di matteo renzi voi vi fidereste oppure se non riescono a trovare il passaggio tra il conte due e il conte tre che è l'unica possibilità possibilità che ha zingaretti e di maio a quel punto si decreta si decreta decreta la rottura correnzi e conte dovrà andare alle camere a chiedere la fiducia e vedere se ha trovato i due i due i sei sette che dicono mercenari che mancano per completare il quadro di sostituzione dei senatori di renzi beh la tattica dei due è chiara conte mira a disinnescare una volta per tutte le mine poste d'italia viva sul suo sentiero quindi prende tempo dire vuoi il recovery va bene vuoi la delega i servizi e te la do vuoi non lo so il mess andiamo a chiedere qualche soldo al messa quindi da una parte c'è conte disposto a tutto per salvare conte stesso quindi è la la tecnica del carciofo dall'altra parte cerenzi con la tecnica del cerino che chiede garanzie su tutto il pacchetto e non accetta l'idea di vedere spostato in avanti il confronto sulle altre priorità di legislatura lui vuole tutto subito lui prima per il prossimo consiglio dei ministri che dovrebbe essere lunedì vuole la cessione della delega dei servizi segreti di conte che la tiene stretta perché insomma è con i servizi segreti degli stati uniti russia gate c'è stato qualcosa e quindi conte vuole tenersi stretta alla delega quindi che renzi vuole subito tutte le sue modifiche sul recovery plan cioè che il recovery plan sia praticamente scritto da renzi che conte lasci la delega i servizi segreti che vengano subito chiesti i soldi del mess e poi adesso vuole subito fare il ponte sullo stretto cioè tra sabato e domenica domenica verso le 6 già finito il ponte sullo stretto no però vuole subito la partenza del ponte sullo stretto allora sulle modifiche al recovery qualunque siano le modifiche come dice renzi peggio di così non lo possono modificare nel senso non possono fare peggio di così è il peggio su questo sono d'accordo con renzi il recovery così com'è vista la bozza quei 74 miliardi l'economia circolare il green quella buffonata sono d'accordo con renzi guardate che per essere d'accordo io con renzi insomma comunque ha ragione renzi sul recovery non si può fare peggio qualsiasi modifica è per forza migliorativa non può essere peggio quindi quello sono d'accordo sul mess subito non sono assolutamente d'accordo il mess non sa da fare ecco sul ponte sullo stretto sono pienamente d'accordo subito la partenza dei lavori lunedì mattina cominciate a mettere la prima pietra cominciate a scavare e a fare il ponte subito il ponte deve essere fatto subito immediatamente e poi lui vuole tutte le altre cose che ha chiesto la delega sui servizi e che la lasci con te ma chi se ne frega della delega sui servizi insomma quindi renzi vuole tutto il pacchetto delle sue idee subito ma realmente renzi interessa il pacchetto di tutte queste cose probabilmente a renzi interessa ma questo pacchetto serve per raggiungere un suo fine personale segreto c'è una piccola probabilità che lui lo faccia per il paese ma in realtà lo fa sempre per avere più voti come dire fino a questo punto ho fatto minacce i miei voti sono rimasti al 2,9% 2,8% a questo punto mi manca solo la carta da giocarmi la carta di fare il bene del paese anche se non mi credono più gli italiani cercare di fare il bene del paese dicendo devi fare questo 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 che sono anche cose giuste quelle che dice naturalmente gli italiani sono ancora convinti che lui lo faccia per per un suo altro fine personale anch'io sono convinto di questo però c'è anche una piccola percentuale di possibilità che lui lo stia facendo sempre per aumentare i suoi voti però che stavolta voglia far vedere agli italiani che lui lo fa per il bene del paese e poi parleremo di che vuole fare il consiglio dei ministri in streaming cioè farlo vedere agli italiani come va realmente il consiglio dei ministri cosa che Conte credo che non accetterà mai di mettersi in diretta con gli italiani a fargli vedere il consiglio dei ministri ma il clima di reciproca diffidenta sembra essersi propagato al resto della maggioranza non si spiega altrimenti la fibrillazione che a un certo punto ieri si è colta nei palazzi della politica e delle istituzioni le voci incontrollate non confermate di un precipitare nella crisi già nel fine settimana con un premier colto dalla tentazione di rompere gli indugini per sfidare Italia Viva in Parlamento in modo da arrivare alle elezioni anticipate questo è quello che la paura che c'è soprattutto nei 5 stelle in questo momento c'è panico la fine dello stipendio la fine del governo dello stipendio ma attenzione questi poveracci non è colpa loro poveracci in senso buono non è colpa loro è stato quel fenomeno di grillo e casaleggio dire voi non siete dei politici di professione dopo due mandati voi andate a casa non siete più candidabili capite che queste persone hanno un contratto a termine e chiunque in un'azienda col contratto a termine farebbe di tutto per completare il proprio lavoro fino all'ultimo giorno essere licenziati in anticipo già è un contratto a termine in più ti licenziati in anticipo molti parliamoci chiaro molti moltissimi hanno fatto prestiti mutui per comprare la casa la macchina e questo comporterebbe un problema gravissimo per questi senatori e deputati bisogna anche capirli nel senso mettiamoci anche nei loro nei loro panni questa è colpa di grillo e di quell'altro che hanno fatto questa porcheria del mandato a termine un'assoluta stupidaggine senza precedenti io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti